Il Signore ritornerà a noi nella festa del Natale, quando faremo memoria della sua venuta storica nell'umiltà della condizione umana. Egli viene dentro di noi ogni volta che siamo disposti a riceverlo e verrà di nuovo alla fine dei tempi. Questo è il messaggio con cui Papa Francesco ha dato inizio al nuovo anno liturgico, commentando all'Angelus il Vangelo della prima Domenica d'Avvento, in cui Gesù invita i discepoli a non smettere mai di vegliare, affinché il ritorno del Signore non li colga di sorpresa, come servi addormentati risvegliati dall'arrivo improvviso del loro padrone. La persona attenta, ha sottolineato Francesco, è quella che nel rumore del mondo non si lascia travolgere dalla distrazione o dalla superficialità, ma vive in maniera piena e consapevole, con una preoccupazione rivolta anzitutto agli altri, al mondo. Con questo atteggiamento, ha aggiunto Francesco, ci rendiamo conto delle lacrime e delle necessità del prossimo e possiamo coglierne le capacità e le qualità umane e spirituali. La persona vigilante è quella che accoglie l'invito a vegliare, respingendo la sollecitazione delle tante vanità di cui bocca il mondo e dietro alle quali, a volte, si sacrificano tempo e serenità personale e familiare. Essere attenti e vigilanti sono i presupposti per non continuare a vagare lontano dalle vie del Signore, smarriti nei nostri peccati e nelle nostre infedeltà. Essere attenti e essere vigilanti sono le condizioni per permettere a Dio di rompere nella nostra esistenza, per restituirle significato e valore con la sua presenza piena di bontà e di tenerezza. Dopo la preghiera mariana, Papa Francesco ha ricordato con parole di gioia il suo recente viaggio apostolico in Myanmar e Bangladesh, ringraziando tutti coloro che lo hanno accompagnato con la preghiera. È impressa in me, ha aggiunto il Pontefice, l'immagine di tanti volti provati dalla vita, ma nobili e sorridenti, li porto tutti nel cuore e nella preghiera.